io mi chiamo giuseppe capella sono nato a torino il 20 settembre 1948 negli anni 60 sono stato studente sino al 67 quando mi sono diplomato a torino come perito elettronico decisi poi dopo anche di prima di tutto cercare lavoro perché in famiglia mio padre era rimasto disoccupato tra l'altro quindi insomma c'era qualche problema e poi decisi di continuare gli studi all'università mi iscrissi all'università sino a quando non venne poi dopo assunti all'olivetti quindi diventare studente lavoratore nel frattempo dal diploma al momento dell'assunzione ho continuato a farlo operaio sempre in nero e però questo mi ha consentito perché poi nel 67 un anno di svolta diciamo così viene occupato all'università torino palazzo campana e io nei momenti che avevo di libertà del lavoro diciamo così andava a occupare palazzo campana e di lì è nata un poco ha cominciato ha avuto come dire la mia la mia crescita tra virgolette politica è stato il primo impatto tra virgolette con la politica politica intesa in senso lato ovviamente no per quello che rappresentava l'occupazione dell'università e tutto il resto faccio una premessa io sono un sessantottino cioè la mia generazione è quella ma sessantottino inteso non solo da un punto di vista politico eccetera eccetera ma proprio come fatto generazionale c'è quel 68 che arriva ancora prima da un punto di vista culturale se vuoi con la beat generation io arrivo di lì no che ho fatto tutto quel percorso noi qualche misura influenzato dai jack earwash alan ginsberg per fare dei nomi per non parlare poi musicalmente i beaters e rolling stones io arrivavo con un background per quello che poteva essere dei limiti dell'età e culturali eccetera che era o qui cambiamo il mondo in sostanza no quindi mars lenin mao tsetung e quando entri in fabbrica il primo impiatto vedi che poi la realtà proprio non è che sono tutti lì pronti per cambiare la società dall'oggi a domani che le cose sono più po più complicate della classe operaia che non era proprio così disposta a fare la rivoluzione non lo dico è una battuta però mica tanto per intanto ero in un ufficio perché io sono entrare l'ufficio progetti apparecchiature elettroniche di san bernardo di ivrea e in quell'ufficio a parte fare degli impiegati che la sindacalizzazione in quel tempo non era ancora un granché però c'era la presenza del sindacato autonomia aziendale will tanto per dare quindi anche lì il primo impatto che trovi un sindacato aziendalista che tutt'altro all'opposto di quelle che sono le tue tue concezioni fortunatamente però il mio ufficio confinava con reparti operai l'attrezzaggio poi c'erano i torni automatici le officine per cui questo mi consentiva di avere un rapporto un po più ampio di discussione e soprattutto di contattare fisicamente quella benedetta classe operaia che avevo nella mia testa come tanti avevamo in qualche misura elevato al creatore no perché per noi l'elemento centrale però la classe operaia in carne ed ossa e questo mi convince per intanto prendere coscienza che appunto volere un mondo diverso è abbastanza semplice pensarlo poi a farlo è un po ben ben più complicato e mi convince di iscrivermi appunto al sindacato anche se allora io ero una parte contestativa no scelsi la fion perché io allora appunto ripeto ero estrema sinistra in quel periodo la fiume ivrea ma la fiume generale aveva anche un atteggiamento più aperto per certi versi diversi della sinistra estra parlamentare era dentro la fiume e per un certo periodo in qualche momento c'era una persona nella fiume che mi corteggiava io decidi di entrare nella fiume perché da un lato perché appunto volevo iscrivermi al sindacato e avere un contatto con la realtà operaia oltre che impiegatizia e dall'altra perché pensavo appunto perché nella fiume che era quella che ha un maggior rapporto di massa con la classe operaia anche e anche e soprattutto per la presenza del pc il pc non mi piaceva dicevo però col pc bisogna farci i conti e per cui feci questa scelta allora c'erano i primi firmenti di democratizzazione dentro il sindacato la nascita delle sezioni aziendali sindacali che erano quelle sezioni che affiancavano la commissione interna siamo parlo nel 60 68 68 sino poi al 69 insomma affiancavano la commissione interna e in cui era possibile a trovare uno spazio per cominciare a dire la tua confrontarti cercare di spingere le soluzioni in una maniera potuto che un'altra e via di questo passo mi iscrisse al pc perché nel frattempo avevo maturato la scelta di iscrivermi al partito comunista anche perché in caserma cioè al militare avevo contattato dei compagni comunisti sui quali avevamo fatto anche una certa esperienza di raccolta delle firme per riconoscimento della ricostituzione all'interno delle caserme per cui qui questo mi aveva aiutato una decisione che mi iscrissi al partito comunista nel frattempo nel 72 ci fu l'elezione dei delegati io tra gli impiegati veni sconfitto fu il primo escluso però mi furono poi date le ore come come dire membro delle commissioni centrali di servizi sociali per la fiume come rappresentante uno dei rappresentanti della fiume cos'erano la commissione centrale a servizi sociali erano quelle che erano supertrate al vecchio consiglio di gestione adesso l'ha detto un po così banalmente perché ad esempio sulla questione degli asili tu andavi nei comuni dicevi ragazzi ci sono un tot di soldi no che sono del del fondo olivetti eccetera eccetera che gestiamo insieme azienda e sindacato sia ben chiaro che se ne volete accedere a questi fondi dovete garantire il servizio con certe caratteristiche in questo è quindi che a potevano essere le tariffe laicitità a volte anche con dove c'erano in un paesino c'erano solo le suore la venda quindi in qualche misura i cedevi però non è che si sia che col pc mi sembrava che era forse l'unica soluzione per poter cercare di incidere politicamente interna della società per il tipo di rapporto di massa che esso aveva che derivava poi dalla svolta di togliati eccetera eccetera la sensazione torino io penso che meno male eravamo visti un po come permettetemi una battuta i marziani un po per questioni storiche legate all'esperienza di adriano olivetti e quindi questa immagine di isola felice diciamo così che poi dopo ti felice era un'isola felice ma io ricordo sempre che il taylorismo spinto in olivetti lo introdusse adriano noi in america eccetera che per carità era un processo di modernizzazione della struttura capitalistica però insomma poi adriano l'olivetti era lungimirante come dire cercò di in qualche misura di controllare questo fenomeno nei suoi effetti più gravi cioè il centro di psicologia che c'era all'olivetti grossissima esperienza il centro di sociologia che c'era stato gallino tra erano queste creature create in parte anche per curare gli effetti in parte non solo ovviamente per curare gli effetti del taylorismo soprattutto in certe lavorazioni alle presse facevano 1700 pezzi all'ora che voleva dire praticamente due pezzi al secondo poi li dipendeva dal tipo di presse sono di prima operazione seconda operazione se la tranciatura la piegatura dalla dimensione dei materiali tutte queste cose allora ci si parte dalla condizione lavorativa per mettere in discussione quel tipo di organizzazione del lavoro e quindi per migliorare la condizione lavorativa sia da un punto di vista materiale nelle condizioni salariali di professionalità eccetera eccetera sia poi da un punto di vista della salute salute sia fisica che mentale perché ripeto 1700 pezzi all'ora le prese non è un caso che poi dopo ci fosse qualcuno che ogni tanto andava a finire al centro di psicologia dell'olivetti quindi si parte da questo tipo di idea perché però per fare questo devi avere una struttura che sia sufficientemente rappresentativa di tutta la realtà da un punto di vista dell'organizzazione della produzione all'interno della fabbrica in tutti i suoi spezzettamenti linea spezzone officina reparto ufficio eccetera eccetera questa battaglia di tentare di superare il taylorismo la si sposa all'olivetti la si sposa anche all'olivetti e soprattutto riesce ad andare avanti poi dopo nel bene o nel male con la struttura dei delegati dei consigli eccetera eccetera l'olivetti è sempre stata una cosa un po se prima per adriano ma poi anche come relazioni sindacali insomma anche qui faccio la battuta sia la fiat c'era il bastone qui c'era la carota è una battuta ovviamente per dare la sensazione ha sempre teso a integrare almeno sino all'arrivo di de benedetti secondo me a integrare in qualche misura anche nella tenere almeno formalmente ma anche nella sostanza a volte un tipo di relazioni sindacali di un certo tipo che ti consentivano anche degli spazi secondo me fu una gestione anche più intelligente ci furono delle esperienze conflittualità eccetera eccetera contestazione richieste di vertenze anche significative quella quella di montaggio è stata uno ma ad esempio alle presse poi dopo fiorenzo prima parlava dei torni automatici la ricomposizione della c'è richiedeva la ricomposizione verticale del lavoro in modo tale dal lavoro più qualificato più gratificante quant'altro il superamento della linea di montaggio dove era possibile attraverso la ricomposizione verticale dove era possibile e quant'altro attraverso questo meccanismo che in qualche misura aumentò la conflittualità all'interno della fabbrica l'azienda che era un'azienda allora intelligente rispose rispose perché anche lei se ne era accorta anche per motivi suoi che il tellurismo non serviva più al suo tipo di produzione cioè aveva bisogno di maggiore flessibilità cioè il tellurismo estremamente rigido va bene per la produzione di massa io ho un prodotto che mi dura vent'anni e su quello organizzo la linea e quindi ammortizzo meglio capitale quant'altro la produzione olivetti non era più così il prodotto che guardiamo molto più più frequentemente perché erano settori tecnologici dell'elettronica non poi c'è l'avvento dell'elettronica e quant'altro quindi ha un loro bisogno per farla breve un'organizzazione più flessibile e si inventa le isole oltretutto sotto anche l'influenza credo che loro hanno sempre seguito anche culturalmente quanto avveniva in america allora c'era nel periodo in cui si parla di job e richmond o robe di questa natura e boh loro rispondono attraverso questa cosa delle isole in cui noi naturalmente ci entriamo dentro siamo stati come dire soggetti di cambiamento abbiamo creato non solo noi ma anche noi le condizioni perché si andasse verso il superamento del set e l'orismo entriamo dentro questo processo e di lì infatti poi le isole di montaggio vengono coinvolgere quasi tutti i montaggi poi dalle isole di montaggio ci furono poi coinvolte anche le officine attraverso la ricomposizione verticale e più tardi ma qui siamo già negli anni ottanti con unità tecnologiche di integrate all'interno delle officine quindi furono altri processi sempre che andavano verso il superamento del taylorismo